Salve a tutti ragazzi bentornati qui su GDRD questo oggi con un'intervista a Simone, la mente dietro il progetto di Vulcania che è tuttora di Kickstarter, ciao Simone questo progetto si prospetta molto interessante perché è un progetto italiano quindi già i giochi di roll italiani secondo me valgono qualcosa in più al 100% e poi perché diciamo che è uno dei unici forse per ora giochi steampunk italiani oltre diciamo a qualcuno già uscito, a Luca che non è proprio uno steampunk ma è un teslapunk, mi sto riferendo a V-Sugar che porta in auge un po' questo genere, forse un tantino dimenticato recentemente sì, mi era piaciuta l'idea appunto di andare a sviluppare quella che è la cultura steampunk perché era un bel cappello che si poteva mettere sopra di diverse cose per amalgamare un'ambientazione che non fosse diciamo quella classica fantasy senza neanche andare nella fantascienza e quindi rimanere un attimino in questa via di mezzo tra questi due mondi sì, infatti diciamo che i generi più inflazionati insomma nel gioco di ruolo sono ecco appunto il fantasy forse anche l'horror che negli ultimi anni è ritornato un po' in auge penso non so sì, c'è stato il filo dei zombie tra Serequie o anche altri giochi che comunque tra, vabbè, classico Lovecraft con richiamo di Cthulhu eccetera eccetera ma ora torniamo a Vulcania Vulcania, dici qualcosa sulla sua ambientazione un po' più particolare insomma cos'è che lo caratterizza? ma allora l'ambientazione di Vulcania è quella in un mondo fantastico innanzitutto quindi spesso magari quando si parla di steampank uno si immagina il nostro mondo in un passato in cui la tecnologia in realtà però aveva avuto un'evoluzione differente il nostro mondo dei vulcani è un mondo invece di fantasia quindi esistono sei isolazioni che hanno combattuto tra loro per la supremazia in cui si sono sviluppate le civiltà che sono tutte civiltà umane ognuna con i suoi tratti caratteristici ma sono tutti umani e a un certo punto nella storia è stata inventata questa batteria Vulcanus che è una batteria che riesce a immagazzinare delle pietre magmatiche e rilasciare l'energia del vapore molto lentamente e con una buona durata nel tempo e questo ovviamente ha portato una rivoluzione industriale di un certo tipo portando anche delle elettrodomestici tra virgolette nelle case degli abitanti mezzi di trasporto come treni o aeronavi o battelli a vapore armi particolari e tutta una serie di gadget che poi sono quelli che caratterizzano appunto l'ambientazione steampunk il mondo di Vulcanian nell'ambientazione del gioco parte a 13 anni dalla fine di una grande guerra che ha coinvolto tutte le isonazioni ha sconvolto un attimino quelli che erano gli equilibri anche precari che si erano formati prima quindi il culmine della guerra è stato quando una delle più importanti isonazioni quella che aveva diciamo leggemonia economica e anche culturale su tutte le altre ha deciso di chiudere la guerra sganciando un ordigno all'interno del vulcano della sua più... che ci si chiama rivale pensando di chiudere la guerra e conservare appunto la propria egemonia la Brabazem che è il territorio dove è stata sganciata la bomba è stato trasformato in una landa post-apocalittica in cui è stato completamente distrutto tutto la maggior parte della popolazione è morta quelli che sono sopravvissuti comunque hanno subito delle gravi mutazioni però d'altra parte l'azione era agita in una maniera inaspettata quindi si è sentita responsabile di quanto era successo di tutte le morti che erano state causate dal loro governo ed è insorta causando una guerra che poi ha lasciato l'isonazione nel caos più totale e infatti è caratterizzata con forti tinte western quindi questo territorio di frontiera dove ogni città un attimino ha la sua legge non è molto strutturato dal punto di vista organizzativo e poi anche tutte le altre zone azioni ognuna ha il suo flevol quindi c'è quella più gotica nordica c'è quella più prettamente vittoriana che è il cuore pulsante dell'innovazione tecnologica ma politicamente invece è molto frammentata e non ha grosso potere c'è quella caratterizzata da un flevol orientale e quella più arretrata ma più popolosa che rappresenta quella che è l'Africa e il Medio Oriente in cui appunto tutto è governato da una teocrazia femminile molto rigida e molto strutturata Interessante, quindi possiamo dire che sono praticamente dentro il macro genere dello steampan che in realtà ci sono tanti piccoli riferimenti ad altri generi che sono dati dalle isole che stai descrivendo sì esattamente, essendo che sono tutti arcipelaghi comunque abbastanza isolati ognuna ha riferimenti culturali e sociali abbiamo voluto anche ogni tanto mettere qualche riferimento qualche critica a quello che è il mondo reale nostro avete fatto benissimo perché è un'ottima cosa questo secondo me abbiamo cercato di farci odiare da tutti in maniera uguale giustamente almeno siete a posto con tutti vi fate odiare da tutti in ugual misura a posto no bene stai dicendo qualche altra cosa? dopo non so se ti ho interrotto no direi che l'infarnatura dell'ambientazione è questa ok invece siccome ho visto anche qualche video delle Gear Pills dal video, insomma dalla pagina di Kickstarter qualcosina sul regolamento se ci puoi dare qualche notizia, qualche informazione per insomma rendersi conto quali sono le meccaniche principali del gioco su quale si regge certo vabbè innanzitutto mi riaggancio un attimo alle Gear Pills se poi appunto avete voglia di andare a vederle mettiamo anche lì sotto così magari qualcuno interessato può andarci ok questa è un'idea che appunto ci è venuta così in corsa mentre facevamo Kickstarter eh siamo stati soddisfatti mi sono anche divertito molto diciamo a realizzarla e tanti ci chiedevano appunto informazioni sulle regole avevamo già fatto qualche live in giro, qualche evento però soprattutto dal pubblico anglofono avevamo qualche difficoltà a metterci in comunicazione a spiegare in maniera semplice e anche divertente quali fossero le regole basi del gioco e quindi ci è venuta questa idea le meccaniche di Vulcania che utilizza un D12 system proprietario che abbiamo ideato noi sono state progettate per essere il più veloce possibile e quindi essere molto snelle soprattutto nei momenti di combattimento essere veloci ma cercando di mantenere una certa profondità quindi tutto si basa sul singolo dado da 12 quindi tirando quello si riescono a capire tutti i vari aspetti della situazione quindi il successo o il fallimento semplicemente oppure anche altre cose che si possono innescare come le opportunità che avvengono appunto quando il dado ottiene un risultato di 11 o 12 e allora a quel punto sarà il giocatore che potrà intervenire cercando di piegare un attimo il flusso degli eventi a suo favore questo quando siamo nel momento narrativo nel momento di combattimento saranno un attimino più strutturate ogni personaggio avrà delle opportunità quindi delle azioni speciali che potrà andare a svolgere che vanno oltre al mero attacco contemporaneamente il risultato del dado ci dirà quanti danni ha fatto l'attacco a seconda delle armi che stiamo utilizzando e d'altra parte facendo uno allo stesso modo si va a ribaltare la situazione quindi si andrà ad ottenere un fallimento con l'imprevisto e sarà il narratore a sua volta a piegare un attimino la situazione in un modo più inaspettato, un po' più negativo nei confronti dei personaggi un altro aspetto interessante è che è sempre tutto visto dal punto di vista del giocatore quindi il narratore non tirerà quasi mai da adi c'è qualche occasione particolare in cui più che altro per andare a non influenzare troppo il flusso degli eventi in un caso in cui ci sia un PNG che magari sta raccontando delle frottole allora il tiro di percezione magari può farlo il narratore in maniera da non influenzare poi il gioco sapendo poi il risultato e un'altra arma che hanno i giocatori e anche il narratore per andare a gestire e rendere più dinamico il gioco sono gli ingranaggi del fato che sono appunto dei gettoni che i giocatori possono consegnare al narratore o per attivare le opportunità non avessero fatto 11-12 con il dado in seguito al successo oppure per ritirare un dado che ha causato un fallimento questi gettoni vanno al narratore che a sua volta poi potrà utilizzarli allo stesso modo contro i giocatori per mettergli bastoni tra le ruote attivare delle azioni speciali dei suoi avversari e così via quindi questo crea un po' una sorta di commercio di scambio di questi gettoni che poi può risultare anche divertente bisogna anche tra l'altro stare attenti a usarli troppo perché sennò dai al narratore tante risorse da poter sfruttare poi contro di te quello sì diciamo che il narratore parta già con una buona scorta perché parte con un ingranaggio per ogni giocatore tendenzialmente il gioco diventa più bello quando questi ingranaggi girano se ognuno se li tiene per paura di dare al narratore la cosa magari stalla un po' quindi comunque tendenzialmente si cerca sempre di incoraggiare i giocatori ad utilizzare e come si recuperano questi ingranaggi? il narratore appunto quando utilizza qualche opportunità speciale dei suoi avversari li può consegnare ai giocatori oppure può anche introdurre qualche evento all'interno della narrazione per sparigliare un po' le carte oppure può anche premiare semplicemente qualche giocatore per qualche idea brillante o per qualche interpretazione particolarmente piacevole quindi gli cede un gettone esatto gli cede un gettone che poi appunto il giocatore a sua volta potrà utilizzare e così via bene ho capito una cosa tra l'altro molto carina che mi è piaciuta è come avete strutturato la scheda del personaggio graficamente è molto carina con tutti quegli ingranaggi tra cui scrivere insomma i valori eccetera eh sì anche lì abbiamo cercato di concentrare il più possibile le informazioni e poi fare questa scheda che si può anche diciamo piegare montare a forma di una sorta di triangolo ed è carino perché intanto occupa poco spazio sul tavolo quindi se poi uno ha la piacere di utilizzare le mappe tattiche c'è spazio oppure per accessori o block notes quello che uno utilizza normalmente per giocare e l'altro aspetto positivo è che la parte con il nome e i dati principali del personaggio sono visibili dal narratore e dagli altri giocatori quindi si può anche evitare quelle dinamiche che ogni tanto sono un po' spiacevoli tipo è Franco quindi cosa fai tu possono utilizzare i nomi dei giocatori che rendono un attimo più coinvolgente la narrazione è sicuramente un'idea molto carina e molto originale perché basta poco insomma per... sì sì basta stamparla magari su una carta un po' più rigida la si piega ed è fatta sì infatti questa è una dimostrazione proprio palese e parliamo adesso un po' invece del kickstarter ho già visto che avete raggiunto una buona somma il goal è di 25 mila se non sbaglio siete arrivati sui 21 mila credo sì ad oggi sì allora oggi che stiamo registrando insomma mancano 9 giorni se non vado errato ma quando uscirà il video che uscirà diciamo il venerdì di questa settimana ne mancheranno ovviamente di meno per cui invitiamo tutti coloro che sono interessati a andare su kickstarter e supportare il vostro progetto perché è veramente degno di nota grazie vuoi dire qualcosa di particolare sul kickstarter? non so se ci sono dei addons dei pledge particolari che vuoi evidenziare? ma allora sì noi abbiamo cercato di tirare fuori un po' di accessori che potessero essere utili allo svolgimento del gioco quindi abbiamo tirato fuori il nostro Vulcan Kit che poi è composto anche da diverse cose che si possono prendere singolarmente come add-on che comprende i nostri dati personalizzati che quindi andranno a evidenziare i numeri un attimino più caldi che sono l'1, l'11 e il 12 del gioco gli ingranaggi del fatto appunto che quindi saranno dei token utilizzabili durante il gioco e i segnalini poi dei personaggi e degli avversari che si possono utilizzare sulle mappe tattiche usciranno oggi che stiamo registrando quindi quando vedete il video ci saranno già le mappe tattiche che saranno anche appunto quattro mappe che si potranno utilizzare durante il gioco riprenderanno gli ambienti che saranno compresi nell'avventura introduttiva che sarà compresa all'interno del manuale e la mappa in realtà l'abbiamo deciso di includerlo dentro la mappa del mondo dentro tutti i manuali cartacei quindi quella stava disponibile per tutti i bakers che hanno preso il manuale cartaceo e mi pare di non dimenticare nulla ok quindi io direi assolutamente di andare su Kickstarter e supportare questo progetto perché veramente ne vale la pena io l'ho già fatto per cui sono veramente contento di averlo fatto perché ovviamente io penso sempre sostengo sempre che al contrario di come molti pensano insomma che il gioco di rollo italiano è forse un po' inferiore tra virgolette a quelli soprattutto americani penso D&D, mondo di Tenebra e via dicendo in realtà noi abbiamo dei prodotti che sono molto belli e di qualità molto alta tra cui anche Vulcania quindi io invito veramente tutti quanti a supportare questo progetto perché fate crescere insomma anche il mondo del gioco di ruolo italiano quindi sì poi dal punto di vista diciamo della creatività insomma siamo sempre stati abbastanza forti magari su altre cose più organizzative pecchiamo un pochino ma sulla creatività direi che che non ci manca nulla decisamente decisamente e va bene allora io ti ringrazio Simone ti ringrazio di essere stato ospite qui da noi grazie a te quando vorrai basta fare un fischio noi siamo sempre disponibili volentieri ci organizziamo post campagna per magari fare un'avventura qui sul canale una one shot qualcosa perché no molto volentieri e ti ringrazio ancora invito tutti quanti a passare su sulla pagina Kickstarter il progetto di Vulcania vi metterò insomma i link tutti qui sotto così non avete problemi basta guardare il video nel box informazioni e vi ringrazio per essere stati con noi alla prossima ciao ciao grazie a tutti ciao